Buonasera, sono a informarvi dell'opportunità domani sera alle ore 18 di partecipare tutti alla Santa Messa che anticipa naturalmente quella di mezzanotte perché non si può fare con il coprifuoco e potete partecipare in diverse maniere, alcuni si sono prenotati e quindi possono venire tranquilli, altri ci possono provare perché magari finché non arriviamo a un determinato numero, quella che è la capienza appunto della Chiesa, tutti quanti possono venire. Ma poi ci sarà la possibilità di vivere lo stesso l'Eucaristia approfittando di un servizio che il Comune di Lariano ha messo a disposizione e cioè un maxischermo sul quale in piazza si può seguire la celebrazione. Ecco, questo mi pare una cosa molto bella e vi invito ovviamente a viverla. A mezzanotte poi, stando in casa, tutti siete invitati a partecipare a una preghiera speciale, una preghiera che potete anche scaricare dal sito della parrocchia. Che cos'è? E' appunto un momento in cui vogliamo ricordare la nascita di Gesù tutti insieme, con gli strumenti che oggi appunto ci offre le scienze della comunicazione, di fare insieme proprio tutti tutti questo momentino di preghiera. Finalmente il giorno 25 ci sono tutte le messe alle quali potete partecipare come sempre e diciamo anche con grande gioia per vivere il Santo Natale. Auguri.